buongiorno di nuovo oggi fidel è un pochino più abbacchiatello non lo so stamattina quando è uscito è come sempre però adesso non va come se fosse se avesse regredito vieni fidel vieni fidel vieni qui vieni patato andiamo andiamo vieni forza vai fidel ok Ciao. Che vi sembra a voi? Grazie.